Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e sono a giocare così il 2000 oggi andiamo qui con FIFA e diciamo tutti i miei team per fare un'altra partita insieme la squadra che mi va a affrontare oggi si fa da da metà gioco di serie a metà di Premier League e un buon misto di squadra un buon squadra 4.094 per Tongo 92 è una grande squadra di balottandotto e si comincia raga l'arbitro dà inizio al primo tempo tutti i miei passaggi, madonna 4.4.2 per loro oggi o Felipe Anderson oh no la subito su, la subito su, la subito su, la subito su grande partenza hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria un approccio che sembra aver funzionato ok ed ecco dunque arrivato il primo nodo dell'incontro 1-0 company c'è spazio per andare vai tre, vai tre fermato da Yunus dunbia 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 con questo skillo con Casimiro c'è l'intervento dell'arbitro c'era quale intervento falloso questo? fatemi capire sembra tutto regolare sembrava, sembra tutto regolare c'è mi ha dato il fallo gli ha dato entrando in campo due giocatori freschi vedremo come cambierà il loro assetto tattico ah ma tendrà i mobili ora posso di Jonas anzi tu ne ho fatte già due sei mio già oh no raga una trappola no andai cieca ragazzi andai cieca interrompe bene l'azione intercettando il lancio vai lì maraglia vetri ultimo scambio fin verso di lui vai lì pro c grande ali ragazzi grande ali 1 1 ragazzi 1 1 1 1 grande ali ragazzi grande ali grande ali come si è messa la partita c'è ancora molto da giocare siamo di nuovo in parità grazie al gol del 1 a 1 si fatte da pareggere se si fatte Casimiro grande c'è il ragazzi va la pace da parare va la facilissima da parare questa era con la gara di oggi sono 100 con questa maglia si non ha saputo ambientarsi il possesso grande gai vai a lì in bala chiude su cane e poi riuscì di partenza e la scuola dell'avversario ai quali va in to grande gole ma è giro immobile che dribbling pallone spazzato via bene dalla difesa pericolo scampato decisivo l'intervento sarà corner pallone in me da Veloes palla alta di poco sulla traversa lei è riuscito a schiacciare la sufficienza per inquadrare la porta peccato era una buona occasione ok provaci che provaci all'ip immobile immobile che dribbling che skill di mani naga grande cercano al secondo grande cercano alla finisce fuoco Alex Telles una nuova rimessa laterale Felipe Anderson prova il raso terra brutto cross è una immobile buona ragazzi ottimo intervento vai a lì subito il tuo bravo dai tuoi dai tuoi dai tuoi hai gay fermato dai tuoi fermazione fermazione recupero anche l'ombani fabbrica assona che il passaggio è intercettato bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio ha riconquistato palla ottimo l'intercetto del pallone cos'è il mio occhio cerca l'area di rigore già mani che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è è bene che c'è di partire il tuo e non manca nessuno come al solito intervento efficace cerca la rete pallone fuori di poco ha riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore difficile fare meglio con le man a lì man real ci sono metri a disposizione come al solito c'è sempre valla in difesa è buono comane comane a mette in mezzo con questo pallone ha avuto coraggio qui l'attaccante se avesse centrato anche la posta che sembra non c'è l'intervento bella raga in chiaramente di far incidere in queste occasioni dagli avversari attenzione hai mani hai mani rossone e mezzo davanti davanti che in trovaci Fabregas trovaci tiro deviato raga di Fabregas c'è la rivessa con le mani c'è la rivessa con le mani un'ora di la spavregas c'è la rivessa con le mani la serai sola immobile occhio al contropiede si affida adesso no fuori gioco ragazzi fuori gioco fuori gioco fuori gioco prima che l'azione proseguisse in rete Ture Saz Fabregas baragna metri verso l'area bravo qui il difensore che legge bene questo pallone riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio ok Ture agri agri Palla in mezzo dopo un buon intervento Nainggolan Mané Attenzione a Immobile Saz Fabregas Interrompe bene l'azione intercettando il lancio Sendo il centro camera che spiega un sticato di passaggi Oh no cavolo Allora sempre check ci deve pensare non è giusto Sempre check Occhio al tiro della bagna Divola Marsolli mi difensore di Tormolo sempre Stesse azioni in primo bull Il portiere è ancora un'altra tenda Finimo tempo Finimo tempo Abbiamo fatto troppo poco Abbiamo fatto troppo poco Troppo poco abbiamo fatto Ora via il secondo tempo Nel primo tempo le squadre hanno speso molto Credo che si apriranno ancora più spazi La squadra veramente è una squadra avversaria Mi da a moltire e mezzo Occhio a Kane Che provaci Kane Appoggio di Tessa al compagno 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 Devi dirvi su Kane ragazzi Di pure la palla Nengolan Bruno Perez Bruno Perez Calcio d'angolo Stiamo attenti Stiamo attenti Procci mani proci Un'auto ragazzi Un'altra parità Un'altra parità Andiamo a continuare così a pressare Andiamo a pressare Casemiro Oh no Qua sotto le gambe è passata Bruno Perez Che voluce di Perez Che voluce di Perez No Tante portiere ragazzi Tante portiere Coleman Casi di passaggi No Continuola Ancora Ancora cieco ragazzi Ancora cieco Ancora cieco Che ci penso Ancora cieco Facciare qualcosa Anche ai fotografi Si preparano al cambio Ancora cieco E' sembrita raga E' sembrita appostificata Non so se l'ora l'ultima sostituzione Lì Da rivedere Senta vivo dell'attaccante Su questo colpo di testa Beh ha impattato male il pallone Non c'è che dire Che in tua Vabbè Spedendola Ben lontano dallo specchio Della porta Sembrite calcio l'angolo Sembrite calcio l'angolo Calibra male qui Fabregas Val real Vanè Madonna Altri passaggi Altri passaggi Stiamo sbagliando Ancora un passaggio perfetto Sembrite calcio l'angolo Avanti Che skill Oh no Ancora calcio l'angolo La squadra avversaria Ancora calcio l'angolo Ancora calcio l'angolo Ancora calcio l'angolo Ti vanno male Ho messo l'angolo Per perdere tempo Perché prima ho fatto già Le sostituzioni Ce ne ho fatti Le sostituzioni 3 Ora attendiamo Attendiamo che Temi sta pausa Che fia poco Tanto è Eccolo A movilità A movilità Questa è davvero bene Buro Attenzione Parti 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 E poi C'è sto pallone Che cavolo Sandro 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 Ture Punta l'area Che Conclusione Spazio per andare Occhio a parte 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 La difesa Continua a rifugiarsi 6-1 3-1 3-1 3-1 3-2 Quell'anno numero Per Per Porta Che I Provaci La Spazzavia Per No Quante Quante che Quante Bene Quante Quante Quantes C'è spazio per andare. Possesso per William. Rientra. Grande intervento, quasi come un gol. Grande autosfera. Eccole mandorle, ragazzi, mi ci rimarcarlo. Ancora calcio San Braga, ancora calcio San Braga, ancora calcio San Braga, scusa l'avversario. Forza, forza. Quindi seppurna, è la presa, 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 scusate, e li curano palla. Forza, forza, inseritevi, cavolo. Hai che provare a buttare in mezzo, Cain. William. Allora, che miracolo, Dino. Che miracolo, almeno un calcio d'acqua, abbiamo conquistato. Carica il portiere, ragazzi, carica il portiere, Dino, lì. Carica il portiere. Peres. Manca poco al termine della gara con questi ultimi minuti che possono regalarci sorprese. ci sono metri a disposizione. Hanno spezzato bene la trama qui. Ci saranno da recuperare tre minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Vertonghen. E ora fanno mille per perdere sempre. Vertonghen. La rimessa già effettuata. Non vogliono perdere tempo. Vai tu lì, vai tu lì. Eh, raga, partita finita, ragazzi. Partita finita. Partita finita. Partita finita. Allora, questo video è il fine qua. Spero che vi sia piaciuto. Commentate, condividete, senza iscritti iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.